Bentornati a tutti. Oggi è mercoledì, 31 luglio 2024. Di seguito la previsione dell'oroscopo di Paolo Fox. Orosco Pariete. In una botte di ferro. In una botte di ferro o meglio. Fuoco, non solo un'allusione al meteo di fine luglio, con temperature roventi, ma anche alla potenza e al calore degli astri in gioco quest'oggi. Ad alimentare la personalità del vostro astro guida martellare dei gemelli, con Giove chiassoso e la luna del giorno che vi transitano, per non parlare del soleone che accende di desiderio venere, stuzzicata a distanza dall'infero Plutone. In vacanza l'eros va per la maggiore, battendo o almeno pareggiando col piacere della socialità e del viaggio. In caduta libera, invece, l'attenzione sul lavoro, con mercurio ostacolato nella vostra sesta casa e il verbo dovere bisticcia con volere e anche con potere. Vitalità, divertimento e conquiste a tutto gas, in compagnia la vostra simpatia tiene banco, allo specchio notate che l'estate vi ha resi più belli, una leggera abbronzatura e i capelli schiariti da sole vi fanno apparire più giovani e accattivanti. Fortuna in amore, amori fortunati, conoscenze nuove, amicizie, incontri importanti, felicità ma soprattutto casi fortuiti con cui si manifesterà l'amore. Momento opportuno per iniziare progetti e concretizzarli nel breve, soddisfazione nei partner, gioie inaspettate. Vantaggi economici e fortunati aiuteranno la coppia. Non cercate oggi negli altri solo la consolazione, ma cercate di consolare e di essere comprensivi, ci guadagnerete tanti amici pronti ad aiutarvi, poi, quando sarà il vostro turno. Sarete particolarmente affascinanti, ma vi sentirete pigri e avrete voglia di stare soli con voi stessi. Oggi la luna potrebbe farvi vincere al gioco. Fati del bene, donate a chi è più povero, fate visita a una persona anziana o a un ammalato, portate un sorriso e una buona parola. Oggi, particolarmente, siate uomini di pace, non per convenienza, ma per convinzione. Molto lavoro da sbrigare. Alzati prima. Bene conferenze e seminari a Yaukli potresti essere invitato. Viaggi a lungo raggio. Idee di ampio respiro. Pianifica. E fallo bene. Molte cose buone potreste fare oggi, ma dovrete limitarvi nello svago e nelle perdite di tempo. Ed è un po' che girate a vuoto. Fate conto solo sulle vostre forze oggi, non contate sull'aiuto di conoscenti, amici o parenti. Valorizzate voi stessi e datevi da fare con tutte le vostre forze e la vostra volontà. Sarai serio e riflessivo. Entra in chiesa, potrà farti sentire bene. Collaboratori, dipendenti o familiari potranno nasconderti qualcosa. Attenzione. Vincete tutto con un sorriso e se anche questo dovesse richiedere tutta la vostra pazienza e sopportazione, fate anche quello. Oggi sappiate distinguere le occasioni per un cambiamento della vostra vita e della vostra condizione, occasioni da prendere al volo e che impongono scelte complicate, ma non difficili. Profilo dei moti planetari discreto, con una buona posizione del Sole, che è ospitato nel segno vostro amico del leone, per infondervi energia, voglia di vivere, entusiasmi a volontà, specie se festeggiate il vostro compleanno nella prima decade. Nettuno pure positivo in modo più netto e incisivo se siete nati nella terza decade arietina, vi invita a non strapazzarvi troppo negli sport estivi che tanto amate, come le corse in bici, le nuotate, le partite sulla sabbia. Che terremoto quest'oggi nel vostro cielo, piacevole comunque con la luna frizzante e magliarda in gemelli, in se stile al vostro segno, amica dei vostri amici Plutone Acquariano e del Sole con Venere in Leone, focosi quanto voi. Unico fuori dal coro Mercurio che parla di lavoro sia chi sta chiudendo l'ultima settimana prima di partire, un autentico tour de force, sia chi è in procinto di rientrare. Le vacanze anni sessanta ormai sono solo un ricordo, c'è chi va e c'è chi viene. Amore ed Eros. Da un'amicizia magliarda alla passione erotica il passo è breve, un calore che dalla pancia sale lentamente fino alla testa e al cuore, coinvolgendo in toto il vostro essere. In vacanza fare nuove conoscenze viene del tutto naturale, ma non fatevi illusioni sulla tenuta effettiva del rapporto, il soleone dà alla testa ma una volta rientrati nel proprio ambiente la temperatura corporea e animica scende bruscamente. Spina nel cuore il quattro zampe affidato in ottime mani, tuttavia vi manca da morire, mai più al mare o ai monti senza di lui. Lavoro e denaro. A lavoro anche oggi per concludere o per ricominciare, fastidioso sentendo gli amici che se lascialano postando foto da invidia. Ma se la vita fosse un eterno paese dei ballocchi figuratevi un po' che noia. In azienda corsa a lingua fuori per concludere tutto o per tamponare i buchi lasciati dai colleghi, partiti oltretutto senza nemmeno passare il testimone. In vacanza attività sportive e spericolate e trekking estenuanti tra arte e natura, una mazzata per il fisico ma una delizia per gli occhi e l'anima. Benessere. Se di tanto in tanto il ricordo di qualche disturbo vi torna in mente lo scacciate prontamente, quasi fosse una zanzarina fastidiosa. Non dimenticatevi però, se avete una terapia da assumere comunque, la pastiglia quotidiana che tiene lontani i guai o almeno così si dice. Meglio ancora se anziché alla chimica ricorrete alla farmacia verde o all'omeopatia, anche in questo caso però la regolarità è importante, puniti gli smemorati che assumono i prodotti prescritti loro un giorno sì e due no. Vitalità in forte ascesa, ripresa anche per i più debolucci, il sole, il mare o semplicemente la prospettiva di una vacanza imminente è già di per sé una sferzata di energia, il toccasana che non si acquista in farmacia, caso mai presso l'agenzia turistica. Denaro. Nei prossimi giorni avrete la mente più razionale per affrontare spese che oggi vi tentano e sarete più lucidi. Non vi lanciate in acquisti un po' lussuosi e fuori dalla vostra portata, che potrebbero erodere le vostre sostanze, ma per il momento sospendete questo intento. Per lei, orgogliosissime dei vostri figli, che in spiaggia attirano l'attenzione, belli come putti ma scatenati come diavoli. Corrono qua e la sollevando sabbia, mentre voi impegnate con le chiacchiere non ve ne accorgete nemmeno. Per lui, successo ovunque, in tour, sui campi sportivi, in sala da ballo. Ma chi siete, ad onere di vivo versione 2024. Colore delle emozioni, lampone. Barometro dell'umore, soleggiato. Pagellina del giorno. Sentimenti, 10, attività, 7, finanze, 9, benessere, 9. Grazie per aver guardato il video. Se trovi il video interessante e utile, non dimenticare di premere il pulsante mi piace, sarà per me una grande fonte di motivazione per realizzare più video di qualità. Ci vediamo.